Di nuovo insieme, care marchigiane, care italiane, otto puntuali, quasi otto, quasi un minuto, lunedì 16 di settembre, pronti a ripartire con tante iniziative che vogliamo segnalarvi. Domani per esempio ci segnalano da Mattelica la festa del santo patrono Sant'Adriano con la nuvoletta che potrebbe incombere. Oggi no, se c'è un patrono da celebrare oggi sarà all'asciutto, mentre invece da martedì a venerdì potrebbe piovere in maniera importante. Ostinato, ma il tempo sull'Italia, dice il giornale, per il weekend ne parleremo. Abbiamo anche tanti appuntamenti anche con ETV, per esempio la 5.000 Marche. Speriamo che il meteo decida di virare, lasciarci ancora qualche giorno d'estate. Colpisce anche attraverso le vostre foto come il tempo si è cambiato. Abbiamo visto ombrelloni lasciati lì, spostati, tolti dalla spiaggia, abbandonati. Insomma, ci aspettavamo, speravamo, una settembre un po' più bello, onestamente. Buongiorno, tutte le città fanno iniziative per stimolare l'uso della bici. Solo Ancona sta facendo il contrario. Sì alle auto in centro, no alle bici. Grazie per la segnalazione. Ora, intanto il giornale che l'ha ispirata. Va in bici la colazione gratis settimana della mobilità ad Ascoli. Bellissima iniziativa, come ho detto anche io, che Ancona sia, dal punto di vista orografico, identica ad Ascoli. Insomma, ci sono zone di Ancona di grande varietà, tra salite e discese. Penso a Via Torresi, per esempio, Via Grazie. Penso a tante salite che, insomma, è difficile paragonare dal punto di vista geografico, geomorfologico Ancona ed Ascoli. Poi, rispetto alle iniziative con la bici per Ancona, io stesso sono andato per ETV a documentare l'inaugurazione del tracciato che dal centro di Ancona porta verso la zona del Conero. Si può fare certamente di più. Questo non ci piove, ma che Ancona faccia iniziative contrarie alla bicicletta non mi pare, onestamente, però rispetto l'opinione. Pesaro, Via Massimino, Massimi, pardon, e non è la prima volta. Fate bene a segnalarci. Guarda, mi dispiace di vedere questo, anche perché Pesaro è capitale italiana della cultura per quest'anno. Non ce ne dimentichiamo, e questo certamente non è all'altezza della capitale italiana della cultura, per cercare di consolarci, perché dispiace anche a me, andiamo ai giornali e andiamo proprio dal pesarese a ricominciare questa bella, bella cavalcata di news. Le prime notizie del giornale di Pesaro sono legate, come spesso raccontiamo, al tema nazionale o regionale. Poi andiamo sul locale. Per destagionalizzare serve programmazione o resterà un ammiraggio. L'anno scorso il gioco aveva funzionato, perché il tempo era stato clemente e quindi la gente era rimasta nelle spiagge e da lì la destagionalizzazione aveva funzionato. Era stato uno stacco più morbido dall'estate all'autunno. Col tempo cambiato servono sempre più iniziative e eventi. Allora, Spa, vino, eventi sul Conero, resto aperto anche a dicembre. Va controcorrente Guido Guidi, coraggiosamente, debo dire, il titolare del Sibei di Porto Novo dice non siamo solo mare. In un contesto nel quale il meteo può fare uno sgambetto, ecco che si risponde con qualità, con servizi, tipo la Spa, Salus per Aquam, ma anche vino ed eventi sul Conero. Questa è la ricetta di Guido Guidi che saluto. Ancora notizie legate alle marche dal punto di vista anche turistico. Perché no? Perché gli aerei sono uno strumento importante in tal senso. Volo per Roma cancellato? Poco importa. Tanto, aggiungo, purtroppo era vuoto. Problemi tecnici all'aereo Sky Alps che ieri non è riuscito a decollare dal Sanzio. Che cosa emerge però? Che l'aereo era desolatamente vuoto, di servizio senza vittime, nessun passeggero prenotato né all'andata né alla ritorno. Insomma, questo collegamento con Roma non decolla in tutti i sensi. Eccole invece le notizie più locali, più pesaresi in questo caso. Addio lunga stagione dei Baywatch. Qui già si chiudono i battenti. Temperature a picco, stabilimenti vuoti, arrivare a ottobre una chimera, chiusura brusca, ma anche a causa delle novità sul salvataggio. Perché non si è trovato di fatto l'accordo. Ancora notizie, stavolta la cronaca. Sradicati nella notte, cinque segnali stradali. Danni a Rondoia e a Uole. Pagheranno questa la risposta, la reazione dell'assessora della Dora, che denuncia la notte brava a Villa San Martino. Episodio a ripetizione però, ricordano i residenti della zona. Attenzione, pulizia di caditoie, missioni impossibili. In cinque giorni non se ne controllano duemila. Siamo ancora a Pesaro. La questione è, arriva la stagione delle piogge, perché siamo sempre più quasi tropicali. E a un certo punto, quando piove, è il piove. E allora bisogna farsi trovare pronti, pulendo i tombini, pulendo le caditoie. Ma Valdinocci, di Fratelli d'Italia, dice che sarà un lavoro fatto a metà. Oggi gli interventi di Marche e Multiservizi ripartono da Soria. Altre news, stavolta da Urbino. La cultura si fa natura a Peglio. Focus sulla tradizione vivaistica. Le caratteristiche ambientali si coniugano con l'arte e la musica per il progetto 50x50 Capitali. L'Anima Verde di Peglio, Balcone delle Marche e Galleria Amplonaire d'arte contemporanea. Appuntamento da oggi al 22 di settembre con il progetto 50x50 Capitali per Pesaro 2024. Speriamo anche qui nel tempo clemente. Da Fano, la notizia ormai da giorni è sempre questa qua. L'insetticida spruzzato da sette diffusori. Tutto sta andando come previsto, spiega il sindaco Serfilippi. Soddisfatto della maxi profilassi antidengue a mezzanotte partirà l'ultima disinfestazione. Sono 20 i casi, lo ricordiamo, di cui 3 hanno richiesto il ricovero. Ricordiamo che il primario dell'ospedale di Fano ha confermato, guardate, basta una tachipirina. A proposito invece di alluvione, stanziati 463 milioni, un grande lavoro in questi due anni. Siamo a Cantiano, il bilancio degli interventi del deputato Baldelli di Fratelli d'Italia, che ricorda anche la forza dei marchigiani. Io poco fa vi ho mostrato il servizio toccante e commovente del nostro Giacomo Giampieri, dedicato al piccolo Mattia, la vittima più giovane dell'alluvione di due anni fa. La sua storia è divenuta un fumetto. Abbiamo intervistato la mamma e il papà. Pesaro, lo ricordo, via Massimi, una segnalazione che ci porta a dirvi scriveteci, mandateci foto, mail con quello che secondo voi non va. Tramonto di settembre sul San Bartolo, buona giornata da Cinzia. Anche Cinzia ci segue dal pesarese, mi fa piacere che mentre mandavi il messaggio noi fossimo proprio sul tuo giornale. Buongiorno Maurizio, da Matteo, qui da piazza Don Minzoni, che bella questa foto. Hai beccato, se non ho frainteso, il sole proprio spuntare da una boschetto, da un giardino, da una parco ed è l'occhio forse divino, chi lo sa. Divino no nel senso, ci siamo capiti. Buona giornata a tutti, oggi è la festa del nostro patrono Sant'Adriano. Domani ci dovrebbe essere la fiera, ma credo che visto il cielo sarà brutto sia oggi che domani. Ci scrive Anna da Matelica, anche Anna, un'altra amica di Matelica, ci scrive che oggi è il patrono e che domani c'è la fiera e anche lei un pochettino preoccupata. Dall'edizione che abbiamo sfogliato anche nelle sue pagine interne di Pesaro e Urbino e Fano, insomma Pesaro e provincia, faccio lo stesso esercizio per l'edizione di Ancona e provincia. L'idea, il porto turistico troppo isolato e allora bus, navetta e infopoint per collegarlo al centro. Marina Dorica aumentano i diportisti ma è confinata ai margini della città. Subito un tavolo con con il bus, bisogna realizzare una connessione, potrebbe essere un'idea interessante. Intanto la regata show al passetto, un trionfo di vele e colori. Ieri con la vittoria del triestino Leghissa, Dorici senza podio, squalificato Pesaresi. Ancora news legate alle muse sold out con Ruffini, star sul palco, influencer, meglio ispiratori d'arte. L'attore toscano con Schettini e la Venia, ai 70 anni della Confartigianato. I giovani scoprano la creatività. Ancora una volta Confartigianato Imprese, Ancona Pesaro e Urbino, ha chiamato a raccolta nella teatro delle muse la comunità, nella sua doppia veste. Da un lato l'imprenditoria, dall'altro le persone che sono l'anima dell'imprenditoria. E ancora una volta risultato ottimo col teatro pieno e le nuove generazioni sempre più connesse. Vado ora ad altre news legate sempre al territorio. Questa è una notizia di cronaca che ha sconvolto parecchio, giustamente, anche perché è una roba grossa. L'ite per un sorpasso, shock al baraccola. Spunta una pistola, lo ferma, quindi lo costringe a fermarsi, e gli punta una pistola in faccia. È successo a pochi, tra l'altro, chilometri dalla sede di ETV, dalla quale trasmettiamo. Un ventunenne maceratese, vistosi minacciato, è scappato ma è riuscito ad annotare la targa. La polizia ha rintracciato e denunciato un giovane che aveva in macchina ancora la pistola. Gallerie imbrattate, siamo a Falconara. Pulizia fai da te, è privata, non deve farlo il comune. Guanti, spugna, detersivo, residente decide così di togliere le scritte horror. Patto con i privati sulla sicurezza è quello che serve. Intanto purtroppo ci risiamo, basta un pochettino di mareggiata e a Marina di Montemarciano torna l'incubo. Due immagini dell'erosione dovuta alle mareggiate. A Marina di Montemarciano, erosione non stop. L'unica soluzione è una scogliera continua. Alcuni interventi, alcuni lavori sono stati fatti ma questo non può fermare il mare. Questo non è in discussione. Osimo, ancora i problemi legati alla Giunta. Pesa a un reggio decreto. La città ostaggio di Pirani, l'accusa del PD. La segretaria Dem Bonprezzi chiede le dimissioni del sindaco eletto pochi mesi fa Magi di Fratelli d'Italia, accusato per un posto intanto simil nazista. Non molleremo mai. Insomma, ci mancavano anche queste polemiche da Osimo. Prima di arrivare a Iesi, torno un attimino da voi. Marcello Saracini, buongiorno. Stefania Stacchioti, buongiorno. Patrizia Zannotti, buongiorno. Stefania Quercetti, buongiorno. E grazie. Le foto bellissime che ci state dedicando. In particolare da Matelica per Sant'Adriano. Ma anche, per esempio, da Trecastelli. Il tramonto di ieri, che valeva la pena immortalare. Buongiorno. Oggi le barche sono uscite. Domani si riparte con il pesce fresco. Giusto, giusto, cara Pietra. Fai bene a sottolinearlo. Viva il pesce, viva il mare. Strumento di lavoro, strumento di nutrimento. Buongiorno da Civitanova. Ieri in visita a Loreto. Infatti, quando ho letto Civitanova, mi sono chiesto. Ma, insomma, quella mi pare tanto Loreto, con la Madonna, che è la protettrice degli aviatori. All'ingresso della cinta muraria, che poi porta verso la Basilica di Loreto, c'è questa bellissima opera d'arte, che in realtà è un aereo, vero e proprio, e che fa bella mostra di sé. Quante foto abbiamo fatto con i piccini lì davanti. Andiamo ora ancora alle notizie. Mancavano alcuni titoli dalla provincia di Ancona. Fabriano, il Palacesari, Scintille, Gergo, Biondi, SS Regione. Primo un progetto. Piove nell'impianto. La Raffaelli, a propaganda live, ha rivolto un appello al ministro Abodi. È stata applaudita, ma anche criticata. La sindaca di Fabriano l'ha difesa, dicendo che è un problema, bisogna intervenire. E la Regione che fa? Ma questo è il punto. Se non c'è ancora un progetto, non si può chiedere aiutadenti. La risposta firmata a Chiara Biondi, assessora allo sport della Regione Marche. E alla voce destinatario c'è Daniela Gergo, proprio il sindaco di Fabriano, che nei giorni scorsi aveva chiesto l'interessamento urgente del CONI e della Regione Marche. La risposta della Regione è presentate un progetto su quello, lavoreremo. Poi, purtroppo, da Filottrano, lutto in lacrime per Valeri, imprenditore e papà, si è spento ieri all'ospedale di Iesi, dove era ricoverato per l'aggravarsi di una malattia feroce e rapidissima, scoperta solo di recente, che non gli ha lasciato scampo. Filottrano piange Francesco Valeri, 53 anni solamente, imprenditore, padre di due figli, conosciuto in città per aver portato avanti l'attività di famiglia nel settore della termoidraulica. Chiudiamo con Senigallia. Mattia, in un fumetto, il ricordo è sul web. Il mondo è finito due anni fa. Pubblicata la storia del bimbo morto nell'alluvione a Quaroli, presente ieri alle celebrazioni, 13 rose lasciate nel misa, nel silenzio e nel rispetto. Questo è il messaggio forte che viene da Senigallia perché non accada più. Noi vi abbiamo già mostrato questo servizio dedicato proprio alla storia di Mattia e al fumetto che ha nel destino quello di poter portare avanti la sua storia, nonostante purtroppo il destino se lo sia portato via, come quelle acque che lo hanno strappato alla mamma. e parlare anche di tutte le cose che in un certo senso a lui e a loro, a noi, stanno a cuore. Momenti incancellabili. La macchina parte così, io e Mattia soli, al buio, io cercavo aiuto, chiamavo, nessuno non rispondeva, il 118, il 112, soli nel nulla in mezzo al disastro, senza sapere cosa fare. Ero completamente impotente e una volta finiti in acqua, l'acqua non era calma. Mi sembra di ricordare una grossa ondata che ci ha separati. Non lo so, mi ricordo di essere stata spinta e poi non ricordo più niente perché chiaramente ho perso i sensi perché sott'acqua non respiravo, a un certo punto avevo finito il fiato. C'è quel messaggio che poi è interpretato proprio dalle parole di Mattia. E poi dice, mamma, ricordo quell'abbraccio, mi stringeva forte. L'ho stretto forte, volevo salvarlo a tutti i costi, ci ho provato, non erano nelle mie possibilità e nelle possibilità di nessuno, credo, perché era troppo grande quello che è successo. La striscia animata verrà portata nelle scuole. Prima tappa, la classe di Mattia a San Lorenzo in campo. La presentazione del fumetto il 29 settembre al Centro Culturale Spunk di Barbara. Per arrivare a Natale con una vera e propria raccolta. C'è un altro obiettivo per i genitori. Una sorta di fattoria didattica per aiutare i genitori di questi bambini speciali e i bambini stessi con possibilità di pernottamento. Tu immagina che questi bambini ti risucchiano tantissime energie. una sera hai bisogno di stare da solo con la tua compagna, tua moglie o che? Io mi prendo cura del bimbo e te te vai a mangiare una pizza con tua moglie. Il nome è già scelto. La fattoria di Mattia. Lacrime sì, ma anche sorrisi di speranza per una vita nuova, per quello che può essere una vita nuova senza un bimbo così. Il tramonto di ieri sera è veduta dal Pincio di Civitanova Alta verso Monte Cosaro. Grazie, il tramonto di ieri è davvero gettonatissimo. Buongiorno, buon inizio di settimana. Maurizio, a tutti voi con la foto del tramonto di ieri sera scattata da San Benedetto del Tronto. Ci scrive Vincenzina di Carassai. Grazie, cara Vincenzina. Fate bene, bravissima, perché hai scritto la zona, la provenienza, l'orario. Dieci elode, così riesco a leggere condovizia e senza fraintendere o malinterpretare i vostri messaggi, soprattutto la loro provenienza. Vado veloce verso Macerata e provincia. Sfogliamo insieme i giornali. E allora, non solo graffiti in centro, anche la galleria pedonale è abbandonata all'incuria. è l'attacco della Monteverde, segno più emblematico del fallimento di questa giunta. La galleria pedonale per il centro storico è il segno più emblematico del fallimento della giunta Parcaroli. Questo è il pensiero della consigliera comunale di Macerata Bene Comune, Monteverde. Trascurata, sporca, in quattro anni lasciata degradare. Fateci sapere che cosa ne pensiate. Vado ora alle news legate alla cronaca. Litigio per un sorpasso, anche a Macerata se ne parla perché a trovarsi una pistola spianata in faccia è stato proprio un ventunenne maceratese che però, con lucidità devo dire, è riuscito a scappare perché l'altro lo aveva bloccato per farlo fermare e ad annotare da targa la polizia poi ha fatto ottimamente il suo lavoro rintracciando e denunciando il giovane che aveva usato la pistola. Un banale litigio stradale si è trasformato in un vero e proprio incubo. Altre news questa volta da Civitanova. Lo sport che riempie le vie del centro vetrina per tutte le associazioni. L'iniziativa alla sua quarta edizione ha visto protagonista il vario pinto mondo sportivo cittadino. Che belle queste immagini. Ultima domenica estiva, dice il giornale a Civitanova, forse hanno visto le previsioni del tempo che per la settimana porteranno pioggia. Sapore autunnale però, visto il meteo e le temperature. Il centro si è animato grazie alla festa dello sport, festival dedicato alle associazioni sportive della città giunto alla sua quarta edizione. Da Civitanova a Civitanova restiamo proprio qua perché ahimè dallo sport, dai giovani in strada alla cronaca. Blocco di cemento contro una vetrata, furto con spaccata nella tabaccheria. Il blitz dei ladri nella notte in via Carducci rubati con tanti e sigarette. Indaga la polizia al vaglio le spy cam. Poi Recanati e Porto Recanati. Torniamo sulla vicenda di tanti utenti che sono diventati pazienti per forza in coda per il cambio di medico. Utenti in fila per cambiare il medico. Siamo a Porto Recanati. Per il sindaco è sempre colpa di altri. È l'attacco di Ubaldi, già sindaco di Porto Recanati. Non ho visto disordini. Michelini avrebbe dovuto chiamare l'ast dal mattino. Tutti allo sportello dell'azienda sanitaria territoriale di Macerata. In centinaia nello stesso giorno si sono messi in fila. Si poteva evitare questo caos? Secondo l'Ubaldi sì. Ultimo saluto intanto ad Alessandrini Gentili, colonna del distretto delle Calzature. E siamo già dal maceratese in zona Fermo e Porto Santerpidio. Ma ci arriveremo con più dettaglio. Buongiorno e buon lavoro da Gabriele. Grazie caro Gabriele. Buon inizio di settimana da Stefania che ci segue da Montemarciano. Vediamo un po' il cielo anche di Montemarciano. Questo è relativo al tramonto di ieri o all'alba di oggi? Perché ci sono dei punti di contatto e di affinità. Buongiorno. Questo invece da parte di Giacomo. E che meraviglia. Mozzafiato. Questa foto da Senigallia. Non ne ho dubbi ma giustamente ce l'ha anche scritto l'amico Giacomo. Guardate che meraviglia. Queste sono le marche. Questa è Senigallia in particolare. Là verso destra nella foto c'è una via meravigliosa con tanti locali tra i quali c'è anche una nota gelateria celeberrima per le sue code nel periodo estivo. Ben diversa la soluzione che offre Lufthansa. Prima di tornare ai giornali ripasso da voi. Il messaggio è lunghissimo. Io dovenio. Quando tronco i messaggi so che vi dispiace e vi arrabbiate. Però abbiamo un ritmo veloce perché dobbiamo soprattutto far rassegna stampa. Il messaggio è molto complesso. Cercherò di riassumerlo dopo una lettura veloce. Abbiamo pronta dopo la zona di Ancona e la zona di Macerata l'edizione, la zona di Pesaro, l'edizione di Fermo e Provincia e poi arriveremo ad Ascoli Picceno. In primo piano per il Fermano, tour in bici ed eventi. L'arrivo del freddo non frena il turismo. Pioggia e freddo. L'estate sembra aver fredda di andarsene mandando all'aria forse i progetti per allungare la stagione. In realtà di iniziative ce ne sono e ce ne sono tante. Per esempio la Ring Edition con la scelta di tre tracce Wild Classic Short raduno di bici a Porto Sant'Elpidio. Ce n'è per tutti i gusti. Io vi ricordo venerdì, sabato e domenica la 5.000 Marche. Intanto a proposito di iniziative, il triathlon che riempie la costa le sfide con oltre 500 atleti. In archivio il weekend di Porto Sant'Elpidio brilla come società sportiva la Minerva Roma. Intanto da Porto Sant'Elpidio a Loreto cicloturistica di successo. Ieri per il tradizionale appuntamento con la cicloturistica Porto Sant'Elpidio Loreto che quest'anno è giunta alla sua edizione numero 48. C'è una foto molto bella di questi ciclisti che sono arrivati fino a ridosso della Santa Casa. Anch'io quando arrivo con la bici là mi fermo verso la fontana, mi tolgo il caschetto e faccio una preghiera che non guasta mai per chi ci crede. Big olimpionici e calcio balilla umano. Grande festa per le società sportive. Come a Civitanova anche a fermo dai ginnasti, macchini e macchiati alla tennista Cocciaretto, vetrina in centro per le nuove iscrizioni. C'è stato anche il classico calcio balilla umano che ha avuto un sacco di successo e di adesioni. Altre notizie che ci portano alle zone sempre del Fermano. Volevo fare un attimo il punto sulle violenze in famiglia. Purtroppo l'incubo continua. Due denunce per minacce e aggressioni. A Porto San Giorgio una donna nei guai per abbandono dei figli minorenni dopo la segnalazione. Sempre acceso l'allarme per le violenze in famiglia. Anche grazie però all'aumento delle denunce. È vero che ci sono sempre più casi ma è vero anche che il motivo è dato dal fatto che tante donne hanno sempre più il coraggio di denunciare. Luciano, Stefania, Marcello, Patrizia buongiorno. Buongiorno anche a chi da Whatsapp ci manda foto come queste. Stupende. Ore 7.30. Ciao da Ancona. Ci scrive Maurizio da Ancona. Potrei essere io. Che meraviglia. Vedo un pezzetto della scalinata del passetto e questo era il mare che di lì a poche ore avrebbe ospitato la regata del Conro. Anche questa merita dopo la foto di Senigallia poco fa sulle lungomare. Pure questa emoziona. Non nascondiamoci dietro alle salite di Ancona con le e-bike non c'è nessun problema. Ora che si possa fare di più l'ho detto. Per completare un po' il pensiero se no sembra che ci siamo fraintesi. Però dire che il comune di Ancona stia ostacolando la bicicletta in città oggettivamente non è vero. non è che non stanno facendo contro. Forse questo ci può anche stare. Non stanno facendo tanto per. Ma dire che il comune di Ancona ce l'abbia con le biciclette se mi porti delle informazioni, delle prove allora le leggeremo insieme. Però dire che il comune di Ancona ce l'abbia con il mondo della bici eccetera non mi pare. in più ho ricordato l'inaugurazione del tracciato che si può fare a piedi ma anche e soprattutto in bici anche con la bici elettrica dal centro fino verso il Conero. Questo mi pare chiaro. Quanto sono belli i Monti Azzurri, bellissimi. I Monti Azzurri ispirati e ispirazione a loro volta di Giacomino Leopardi ma io direi anche le colline che hanno il loro perché. Vado ora dal Corriere per il Fermano mancava solo l'edizione per Ascoli e San Benedetto mi chiedono anche l'edizione di Pesaro ma è stata la prima ad essere sfogliata nel dettaglio proprio attorno alle 8.26 minuti fa per essere proprio precisi precisi perché è giusto così. Un nato ogni tre decessi un'emorragia di residenti Ascoli scende a 45.483 abitanti ma la discesa è contenuta grazie alla presenza degli stranieri ma di questo passo certamente, ahimè, le nostre città si spopoleranno. Area pedonale vicina alla scuola ed è polemica. Non si sa dove lasceremo i figli. Siamo a Borgo Solestà amici amici di Ascoli fino a venerdì ci sarà questo cambiamento. Nessuno ci ha informati lamenta Luzzi evitiamo pericolosi ingorghi la risposta di Ferretti. Al via oggi attenzione amici amici di Borgo Solestà da via Pergolesi e per tutta la lunghezza di via Serafino da Montegranaro questa area pedonale si tratta di un progetto pilota del comune fino a venerdì e vedremo l'effetto che fa. Le famiglie non sono molto convinte dell'efficacia. Intanto un presunto caso di mala sanità morte dopo l'intervento chirurgico a processo due medici del Mazzoni. la procura è ricorsa in appello in primo grado sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Si aprirà il 5 novembre davanti ai giudici della Corte d'Appello di Ancona il processo contro due chirurghi Gianluca Guercioni ed Ernesto Basaglia. vi porto ora a San Benedetto del Tronto anche qui la voce delle famiglie poco fa sulla questione dell'isola pedonale davanti a una scuola qua invece per lo sport strumentalizzati contro spazzafumo i nostri ragazzi senza più una piscina i genitori degli allievi Uipin invocano una commissione dopo lo stop della delibera sull'impianto perché si parla di politica dice che c'entra la politica con lo sport perché è stato il primo voto quello sulla piscina come abbiamo raccontato nel quale la maggioranza che sostiene il sindaco spazzafumo si sia veramente per la prima volta spaccata ufficialmente vi porto ora invece in spiaggia col piumino indosso cambiare la norma sui Baywatch questo l'appello da San Benedetto eccole le spiagge desolatamente spoliate spoliate delle classiche strutture ombrelloni elettini il presidente ITB Ricci sulla smobilitazione in atto negli chalet dice occorre assumere i bagnini ma in base al meteo perché altrimenti ci ritroviamo con bagnini sì ma bagnanti no o viceversa dipende sempre dal tempo che fa questo per l'edizione di Ascoli e San Benedetto del Corriere tra poco dopo il break vi porterò alle news del Carlino provincia per provincia buongiorno ti mando le foto del mare di ieri a Marina Palmense provincia di Fermo Martina grazie una foto bellissima di mare ma mi permetto anche di cielo guardate che fantasia ha usato ieri chi sta al piano di sopra per regalarci questo scorcio grazie davvero all'amica Martina di Marina Palmense e torneremo tra poco anche al Fermano con te e per te vado a fermarmi ma prima approfitto faccio ancora una rapida carrellata di notizie una per provincia dai sempre tra i siti vandali fanno stragi di segnali è successo a Pesaro danneggiate rotatorie e aiuole il sindaco attacca pagheranno per questi danni e poi Big Olimpionici e Calcio Balilla ci sono anche belle notizie Big Olimpionici e Calcio Balilla umano grande festa per le società sportive a Fermo dai ginnasti macchini e macchiati alla tennista Cocciaretto vetrina in centro per le nuove iscrizioni e le società sportive la questione da Ancona del porto turistico isolato con il sindaco Silvetti che vuole rilanciarlo Busnavetta e Infopoint per collegarlo meglio al centro poi la vicenda di Fabriano che è diventata di dominio nazionale perché la campionessa la super campionessa Sofia Raffaeli in trasmissione in televisione in Rai a propaganda live di Zoro ha detto nel nostro palazzetto piove abbiamo bisogno di una mano da quel punto di vista l'inpoi è partita una polemica va detto devo dire onestamente anche politica a seconda del colore politico del comune della regione del governo ci sono state prese di posizione anche un po' strumentali il sindaco di Fabriano ha detto ha fatto bene Sofia è un problema c'è ce l'abbiamo e abbiamo bisogno di aiuto la regione risponde prima di chiedere soldi bisogna che ci presentiate un progetto come logico che sia se non c'è ancora un progetto e la risposta firmata a Chiara Biondi non si può chiedere aiuto ad altri enti da Fabriano a Macerate poi mi fermo non solo graffiti in centro anche la galleria pedonale è abbandonata questo il jacquise dell'ex assessore Stefania Monteverde prova del fallimento della giunta a Parcaroli secondo la Monteverde fateci sapere che cosa ne pensiate lavori sul lungotenna cantiere pronto a riaprire ampliamento del primo tratto da un chilometro e mezzo da domani attenzione anzi da oggi la ditta tornerà ad operare sul posto a proposito di cantieri per chi utilizza l'A14 l'abbiamo specificato anche nella giornata di ieri domenica da oggi riaprono i cantieri lungo l'A14 soprattutto nel tratto centro-sud e questo inevitabilmente porterà a rallentamenti disagi e speriamo di no ma in passato è successo anche incidenti quindi ricordo e rinnovo la notizia informazione di servizio da oggi riaprono i cantieri in A14 addio alla stagione dei Baywatch qui già si chiudono i battenti che cosa succede non abbiamo più certezze dal punto di vista meteo settembre l'anno scorso è stato bellissimo quest'anno è onestamente una ciofeca per cui che si fa come ci organizziamo bisogna trovare una strada una vedi mezzo potrebbe essere chiamare i Baywatch a gettone pulizia delle caditoie preoccupazione a Pesaro missione impossibile in cinque giorni non si riescono a controllarne duemila le piogge sono in arrivo e l'obiettivo è evitare che ci siano allagamenti chiaramente altre news la polemica che vi ho raccontato poco fa l'area pedonale vicino alla scuola di Borgo Solestà scatta la protesta non sappiamo dove lasceremo i figli però ribadisco si tratta di una sperimentazione quindi fino a venerdì ci sarà vedremo se avrà avuto la sua efficacia mi devo fermare break state con noi ben arrivati a Iesi questa è Brava Casa Arredamenti cucine camere camerette living il nostro showroom è ricco di proposte per la tua casa stai cercando un tavolo intelligente per accogliere tutti i tuoi amici oppure un divano letto contenitore che unisce praticità e comfort ti serve più spazio nella tua camera per conservare piumoni e cuscini da Brava Casa troverai sempre la soluzione giusta per le tue esigenze vieni a trovarci e approfitta di tutti i nostri servizi da noi trovi anche pezzi unici non lasciarteli sfuggire siamo a Iesi in provincia di Ancona Brava Casa la nuova era della convenienza per una professione sicura e all'avanguardia corsi di formazione per saldatori ad Ancona Iesi e Fano per ottenere il patentino rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura valido nel mondo info 075 69 10 521 www.aironepg.it ottica Cristina Montenoni qualità risparmio professionalità occhiali da vista e da sole delle migliori marche lenti a contatto strumentazione scientifica visita computerizzata della vista via Piemonte 2 Falconara Marittima proteggere la vista di tuo figlio non ha prezzo coppia lenti UV stop per pc 100 euro coppia lenti CR antiriflesso 60 euro e ogni quarto martedì del mese controllo dell'udito gratuito per qualsiasi ristrutturazione la face sia con te buongiorno da Etc Marche ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come sempre ci potete seguire in televisione sul canale 12 e ovviamente anche sul nostro sito e sulla nostra app di Etc Marche parliamo di economia parliamo di sanità messiamo sulla cronaca la politica ora come vedete alle nostre spalle è appena entrata in porto la Geovares buongiorno e buonasera buona gente questo cordiale saluto vi giunge o vi rigiunge a seconda dell'orario di fruizione del nostro programma dal canale 12 dagli studi di Etv baraccola di Ancona 16 di settembre siete voi i protagonisti del giorno Fabiola grazie ma grazie a voi cara Fabiola che ci siete sempre Luciano Stefania Marcello scriveteci pure alla 3493918169 soprattutto mandateci ancora e ancora non ci stancheremo mai queste bellissime foto che ci fanno fare il giro della regione Marche queste per esempio tra le ultime arrivate mare di ieri marina palmense provincia di Fermo spettacolare anzi spettacoloso peccato solamente come si vede dalla parte destra della foto che sia vuota che fosse vuota la spiaggia ieri questo per via del meteo a proposito di meteo ripartiamo da qui che settimana sarà è lunedì il weekend appena passato abbiamo ancora voglia di immaginarci soprattutto voglia di immaginarci come potremmo goderci il prossimo weekend e allora c'è un ciclone boomerang nel senso che è passato sopra l'Italia se n'è andato ma torna torna indietro si formerà una palude barica sull'Italia in questo momento tra l'altro il vero maltempo si sta scatenando in Repubblica Ceca in Austria dove ci sono tanti tanti danni problemi anche vittime quindi un abbraccio a quelle comunità a quei territori ostinato maltempo sull'Italia oggi no oggi bello ma poi da martedì a venerdì compreso un po' su tutto il centro Italia compresa la regione Marche ci saranno precipitazioni anche a carattere temporalesco per il weekend sabato 21 domenica 22 vi diremo vi diremo state con noi e lo scopriremo insieme ripasso dal via dalle notizie locali abbiamo dato una bella scorpacciatona di edizioni del Corriere Adriatico le abbiamo sfogliate come sempre pagina per pagina adesso vi riporto con il sito al Corriere ma giusto per una notizia per ogni provincia e poi ci tuffiamo sull'edizione del Carlino Marche in primo piano ancora polemiche legate ai voli di continuità ai collegamenti dalle Marche da Ancona aeroporto di Ancona a Falconara con Roma Milano Napoli che cosa è successo doppia notizia perché da un lato il volo Ancona a Roma ha avuto problemi tecnici la seconda news poco importa se l'aereo poi non è partito perché in realtà era vuoto sarebbe partito vuoto una tratta che stenta in tutti i sensi a decollare da Ancona e parliamo di viabilità a un tema di sanità che ci porta ad Ascoli morte dopo l'intervento chirurgico a processo due medici del Mazzoni il Mazzoni è appunto l'ospedale di Ascoli per omicidio colposo la procura è ricorsa in appello perché perché in primo grado i due giudici avevano stabilito che i medici dovessero essere assolti perché il fatto non sussiste ma la procura chiede l'appello vogliono che ci sia un secondo processo per capire se effettivamente non abbiano responsabilità questi sanitari l'altra notizia del giorno per le marche è questa lite per un sorpasso shock alla baraccola lo ferma e gli punta una pistola in faccia protagonista involontario della vicenda una ventunenne maceratese che si è visto prima la strada tagliata e poi questo altro giovane scendere e puntargli contro una pistola grazie al fatto che il ragazzo però il maceratese il ventunenne coraggioso è riuscito a fuggire ma ha anche preso nota della targa grazie a quella la polizia ha rintracciato e denunciato un giovane messaggi buongiorno Maurizio ancora città mondiale del G7 ma sporca il comune non ha bisogno di soldi grazie per il messaggio così mio padre prevedeva i terremoti l'invenzione del prof Ceramicola segnalava la scossa 20 ore prima una vita per la scienza questo è un articolo di giornale un po' datato secondo cui appunto il professore Ceramicola avesse inventato un marchigegno per prevedere i terremoti il meccanismo è preciso quegli studi nessuno però li ha più proseguiti ora è custodito questo strumento a pietra alla croce beh certo si potesse davvero prevedere i terremoti saremmo di fronte ad una svolta incredibile storica epocale evidentemente qualcosa non ha funzionato sgambatoi vuoti Parco San Giovanni pieno invece ci dice Bigo grazie caro Bigo e adesso sì che possiamo tuffarci di nuovo sul Carlino edizione Marche quindi in poche pagine abbiamo davvero il giro di tutta l'informazione che secondo il giornale il Carlino sia importante per la giornata di oggi intanto partiamo dalla protesta di una ventina di famiglie imprigionati nella nostra strada i residenti di via degli agricoltori ci hanno chiesto di leggere questo articolo lo facciamo ancora bloccati da bancali di legno messi lì da un privato per la serie incredibile ma vero alcuni dei residenti ieri hanno deciso di rivolgere un appello è come essere imprigionati nella nostra via in un colpo solo quella barriera ci impedisce di raggiungere le auto e di sbucare sulla Montellabattese come facevamo prima vedremo se l'amministrazione comunale risponderà e come la notizia l'altra notizia del giorno dal Pesarese però è questa qua raid vandalico notturno abbattuti tre cartelli stradali e adesso la comunità dovrà pagare per rimetterli in piedi la rabbia dell'assessore è successo alla rotatoria di via al San Martino indagini della polizia locale l'assessore della Dora spiega questa gente fa un danno a tutti spero li trovino presto poi le polemiche sul recentemente riaperto auditorium guerra per gli spazi pochi eventi così lo sport incalza le società fremono non è una palestra ricorda il sindaco anche se in futuro si potranno disputare i campionati la predilezione però dovrebbe essere per gli eventi da Fano invece la questione della dengue le ultime disinfestazioni e poi ci siamo la febbre basta un attacchi perina la zanzara tigre bombardata anche stamani e poi stasera agli infettivi di Pesaro ci sono ancora tre ricoverati il primario però di Fano rassicura non c'è pericolo mortale se non in casi estremi basta una attenzione vigile con la tachipirina se la febbre si alza certo è molto dolorosa la dengue ma non è mortale come abbiamo già ricordato nei giorni scorsi siamo a Piobbico l'avevamo anticipata venerdì questa iniziativa il nostro maestro Dechè Alessandro Tizzani che tra poco arriverà qua negli studi ci ricordava che ci sarebbe stata e c'è stata effettivamente a Piobbico la gara dei più brutti a Luigi riconfermato presidente intanto del noto club ma è Giannino Labelva che vince ancora il re dei brutti e ancora lui Giannino a Luigi 59 anni detto Labelva riconfermato presidente del club dei brutti la sua investitura ieri pomeriggio a Piobbico durante il festival dei brutti insomma anche l'essere brutti va portato come premio come plauso come eleganza e poi sempre dalla pesarese le rose rosse le lacrime la rabbia una ferita non rimarginabile a Pesaro e Ancona unite dal ricordo per i due anni dall'alluvione dolore smarrimento giornate trascorse a chiedersi il perché l'alluvione ha portato devastazione in molte famiglie nel territorio e in tutta la comunità della valle del Misa è stato un weekend di ricordo di commemorazione soprattutto di silenzio e di preghiera noi abbiamo voluto intanto sono in diretta televisiva da vent'anni a questa parte grazie anche a chi buonanotte non se ne ricorda basta un attimo guardare la tv dicevo noi abbiamo in questa due giorni raccontato in tanti modi l'alluvione di due anni fa forse il modo più toccante è attraverso un fumetto che ha ricordato il piccolo grande Mattia continuo a pensarci perché per quanto doloroso è l'ultimo ricordo che ho di Mattia è l'ultima volta che l'ho abbracciato l'ultima volta che ci siamo guardati negli occhi come viene scritto anche lì ho pensato al fumetto perché il fumetto era la soluzione migliore per poterlo rivedere anche vivere almeno su un foglio di carta così che la sua immagine rimarrà fissa nei nostri ricordi chi l'ha detto che senza parlare non si possa comunicare a Mattia Luconi bastavano quegli occhi vispi e dolci la fantasia la creatività l'amore esplorava a otto anni curioso e spensierato un mondo che nelle tenebre del 15 settembre 2022 gli ha voltato le spalle come quel fiume compagno di avventure quotidiane ma nemico nell'ultimo viaggio quel fiume che lo ha strappato alle braccia di mamma Silvia lo ha sottratto all'affetto di papà Tiziano nel nuovo mondo di Mattia non c'è spazio per il brutto della vita solo colori e amici impressi indelebilmente in un fumetto il fumetto affronta due tematiche che sono l'inclusione sociale dei gnometti speciali e il prendersi in carico e cura dell'ambiente che a quanto pare non c'è stato in passato l'ho realizzato un'illustratrice di Barbara Veronica Giannis Conti per me è un onore il fatto che Tiziano e Silvia hanno pensato a me per questa cosa perché Mattia lo conoscevo e questa è l'opportunità per per farlo parlare ancora questa è una parte del servizio meraviglioso veramente lo trovate sul nostro sito insieme anche con il focus dedicato a Cantiano quindi dai sentimenti anche all'operatività ripartire dopo l'alluvione con la forza della comunità una comunità che attraverso anche le vostre foto i vostri pensieri si sente e come Alba da Ostra buona giornata da Giordana guarda Giordana grazie di cuore perché dopo questo servizio veramente toccante avevamo proprio bisogno di un po' di bellezza viva Ostra viva l'amica Giordana torno ai giornali eravamo proprio sul Carlino in queste zone per parlarvi anche di cronaca con una vicenda quantomeno curiosa 30 cittadini dicono basta non ne possiamo più di lei la condomina definita stalker esposto dei residenti tra sfregi dispetti danni 30 cittadini delle case popolari di Brezzo Bianche quartiere popoloso di Ancona hanno deciso di denunciare il loro incubo in foto tra gli altri danni si vede una macchina il cui specchietto è stato divelto altre news sempre dalla provincia di Ancona attenzione il PD all'attacco sindaco arrogante al governo senza avere una maggioranza si deve dimettere il PD delle Marche e la federazione di Ancona attaccano il primo cittadino di Osimo Francesco Pirani la cui maggioranza effettivamente ha scricchiolato quasi da subito non bastasse questo sempre da Osimo un post con scritte naziste il consigliere nella bufera Giorgio Magi di Fratelli d'Italia condivide una foto che poi rimuove si è scatenato letteralmente il caos con questa frase non capitoleremo mai già diffuso durante la Germania ai tempi del nazismo poi sappiamo la storia che cosa ha raccontato altre news ricordiamo agli esi la manifestazione contro l'impianto di rifiuti Edison il corteo c'è stato sabato corteo contro l'impianto per il trattamento rifiuti Edison organizzato sabato scorso dal comitato ex smia che si è trascinato dietro una scia di polemiche per l'assenza del sindaco ora per onestà intellettuale ricordiamo che il sindaco aveva ampiamente annunciato e preannunciato che non sarebbe stato presente ma comunque così come il progetto non lo avrebbe approvato attenzione sempre dalla zona di Macerata in questo caso emergenza sicurezza dopo il furto è pure tornato e mi ha preso a spintoni nel milino il tigre amico di via Leopardi a Macerata lo sfogo del titolare sono esasperato stanco di subire colpi vanno presi provvedimenti è lo sfogo di Massimo Morresi titolare del supermercato tigre amico di via Leopardi a Macerata perché dopo il furto il presunto colpevole è pure tornato indietro facendosi beffe di lui buongiorno Maurizio da Piro buon inizio di settimana oggi bella giornata temperatura ideale 15 gradi saluti da Enzo Enzo sei un amico te voglio bene ma temperatura ideale 15 gradi il 16 di settembre anche no dai qualcosina in più secondo me ancora ce lo meritavamo si vede che il meteo aveva altre cose in mente fatemi salutare però da San Severino la signora Silvia Bisogni 107 candeline per lei festeggia oggi 107 anni la più longeva cittadina settempedana e te credo ha incontrato anche Papa Francesco come si vede in questa bellissima foto Civitanova invece spaccata in tabaccheria via con i soldi e le sigarette ingenti i danni all'attività di via Carducci a Civitanova la banda ha usato un blocco di cemento per sfondare la vetrina i residenti però poi hanno dato l'allarme vi porto ai saluti Fabiola Luciano Stefania Marcello ma anche ad altre immagini che ci arrivano per esempio da Pietra la Croce anche detta Pedra la Cruz con il mare la macchia mediterranea chiamiamola così e il cielo il cielo con queste colorazioni veramente più uniche che rare godiamocelo il tempo anche perché è a scadenza ogni tanto vale la pena ricordarcelo che siamo qui in un viaggio ed è un viaggio che a un certo punto ha pure il suo momento finale a proposito di furti poco fa da macerata lo sfogo del titolare del Tigre che dice dopo il furto è pure tornato ecco situazione simile per certi aspetti che ci viene raccontata dal Carlino nella zona di Fermo sesto furto subito in appena due anni avete capito bene rabbia a casette non li conto ormai più i ladri in azione sabato notte al Black Hole il titolare dice sono stati rapidissimi ormai non li conto più i furti che ho subito lo dice Paolo Silenzi titolare del Black Hole vittima dei ladri per sei volte nell'arco di due anni parliamo delle stazioni di rifornimento di Porto Sant'Elpidio e casette d'Ete speriamo che stavolta almeno vengano acciuffati poi la denuncia da brividi di una minorenne io stuprata sul lungomare shock in riviera ora si indaga la giovane è stata prontamente soccorsa in stato confusionale nella notte tra sabato e domenica si trovava nell'area del fossato dell'Albula zona San Benedetto subito informati i carabinieri speriamo di avere presto notizie fresche a proposito a proposito di notizie fresche anche se la nostra è una rassegna stampa prettamente principalmente precipuamente marchigiana ma mi permetto di dare un paio di notizie di livello nazionale e internazionale perché ne sono successe nelle ultime ore intanto il secondo attentato in due mesi alla vita di Donald Trump spari al golf club di Trump volevano assassinarlo non mi arrenderò mai dice Trump non mi ritiro fermato un uomo con un fucile e una GoPro ma chi è quest'uomo Ryan Routh l'uomo che voleva uccidere Trump aveva votato per lui nel 2016 poi l'appoggio a Joe Biden tra le altre notizie legate a temi non solo marchigiani c'è questa che è difficile da raccontare onestamente siamo nella zona di Parma a Traversetolo il cimitero dei bambini nel giardino di una villetta studentessa modello in una famiglia ben integrata in comunità volontaria in parrocchia studentessa modello indagata per omicidio duplice omicidio dopo il ritrovamento del corpo di due neonati nel giardino della sua casa a Vignale di Traversetolo nel Parmense il sospetto è che possa aver partorito ucciso e seppellito i bambini uno pochi giorni fa rinvenuto dal cane pensate in giardino l'altro un anno fa non non aggiungiamo altri elementi a Sassari bimbo muore schiacciato da una porta di calcio se ci sono genitori in questo momento allenatori allenatrici e ragazzi e ragazze soprattutto la cosa divertente che è pericolosissima però di aggrapparsi alla traversa e pensolarsi può essere fatale quindi non lo fate il concerto di Fedes però non si ferma il concerto di lì a pochi metri di distanza una polemica schifosa però risponde il rapper l'incidente sabato sera in una provincia di Sassari il bambino aveva solo nove anni io la foto di sto bambino non posso proprio farvela vedere oltre e poi l'omicidio suicidio attreviso altra notizia nazionale da pugno allo stomaco Susanna Recchia e la figlia ritrovate abbracciate la lettera d'addio e il tuffo nella piave la donna ha annunciato al compagno con il quale pare si stesse separando che avrebbe compiuto l'estremo gesto la bambina che aveva problemi di salute nell'ingresso in acqua si abbracciava alla madre con lei che sperava la potesse salvare invece pare che sia stata proprio la madre a volerla uccidere così e così morendone anche lei ora le indagini proseguiranno ma per il momento questo è quello che vi possiamo raccontare veramente una giornata un po' così questa è la foto di Renzo che compie 75 anni oh l'avevo chiesta per fortuna cambiamo tono e argomento ci siete voi e viva l'amore l'amore dell'amore non si deve mai stancare oggi è il compleanno di Renzo Renzo Tramaglino parliamo dei promessi sposi eccoli sì promessi sposi 75 anni tanti tanti auguri grazie per aver mandato anche la foto da Loreto ti mando una foto scattata ieri sera capolavoro capolavoro prima abbiamo ricevuto una foto dell'aereo delle frecce tricolori che è stato apposto in una rotatoria proprio lì a Loreto all'ingresso della zona sacra della Santa Casa e questo invece è uno scorcio panoramico dalla Santa Casa di Loreto con il cielo di ieri sera davvero meravigliosi bancali dagli e fogo insomma non mi pare un modo corretto si parla di una segnalazione che abbiamo ricevuto da Pesaro un quartiere ostaggio di questi bancali alcuni residenti ieri sono scesi in strada per lamentarsene vai in bici voglio chiudere con questa bella notizia vai in bici siamo zona Ascoli San Benedetto la colazione allora è gratis te la offriamo noi settimana della mobilità proprio ad Ascoli ogni giorno i volontari premieranno chi passerà dalle 7.30 alle 8.30 in zone specifiche mi hanno chiesto giustamente ma quali sono le zone quali sono le strade allora l'iniziativa è voluta dalla FIAB ADB e poi appoggiata anche dal comune di Ascoli quindi qui trovate i riferimenti da oggi infatti apre la SEM cioè la settimana europea per la mobilità istituita dalla commissione europea per sensibilizzare gli stati sulla mobilità urbana sostenibile quindi intanto vi fate del bene perché andare in bicicletta fa bene alla salute e in più fate del bene anche al borsellino al portafogli perché vi offrono ad Ascoli la colazione c'è anche chi mi scrive che da Pesaro arrivare ad Ascoli per la colazione è un po' lunga vero sì chiaramente è un'iniziativa che sarà più facile per chi abita in quelle zone buongiorno Maurizio un saluto a mio figlio Brando che è impegnato con la festa di Sant'Adriano ciao dal tuo amico Angelo di Acqua Santa Terme grazie caro Angelo sì festa di Sant'Adriano in tanti ci hanno segnalato da Mattelica di questa iniziativa sperando che il tempo sia bella 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 grazie anche per il video buongiorno il tramonto di ieri da Pesaro grazie Renata ci siamo tra un minutino mi fermo intanto eccolo il tramonto di ieri a Pesaro con queste striature tra le nuvole all'orizzonte verso il mare a proposito di meteo mi fermo così queste bellezze questi meravigliosi scorci delle marche godiamoceli oggi perché da domani fino a venerdì dovrebbe piovere senza soluzione di continuità a tra poco torna a Sharper la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici l'università politecnica delle marche ti aspetta con laboratori incontri e attività interattive ad Ancuna e nelle città universitarie dell'Univpn per vedere il programma vai sul sito dell'Ateneo Ancuna Ambiente mezzo secolo al servizio del territorio sedute ai vostri posti avete proprio bisogno di una lezione di raccolta differenziata iniziare a fare un'opera di un'opera